C'è un piano vaccini, quando cominceremo a vaccinarci e chi gestirà il processo, lo Stato o le Regioni? Il processo sarà centralizzato, sarà gestito dallo Stato, a differenza della vaccinazione anti-influenzale che è carico delle Regioni, dove anche le Regioni comprano. Qui gli acquisti sono totalmente centralizzati e noi organizzeremo anche la fase di distribuzione. In questo momento l'EMA, che è l'Agenzia Europea del Farmaco di Riferimento, non ha ancora approvato nessun vaccino, ma siamo fiduciosi che possa farlo già alla fine dell'anno per uno di questi vaccini, quello di Pfizer-BioNTech, e poi l'11-12 di gennaio per un altro vaccino che quello di Moderna. Se queste notizie dovessero essere confermate, come noi speriamo, si potrebbero iniziare a fare le prime vaccinazioni in Italia già alla fine di gennaio e poi con gradualità proveremo a proseguire. Appena arriveranno vaccini rafforzeremo chiaramente il più possibile la nostra macchina organizzativa e procederemo per queste vaccinazioni. Il vaccino sarà gratuito e sarà in questa fase volontario. Ministro, entro marzo ci saranno 5 milioni di vaccini disponibili, giusto? 5 milioni di persone, cioè 10 milioni di dosi, 5 milioni di italiani vaccinabili, ho letto così, perché ci vogliono due dosi per ogni vaccino. Se fosse così, a chi tocca per primo? Perché 5 milioni non riusciamo, fatemi vedere il cartello più o meno della popolazione all'ora, gli operatori sanitari sono 1 milione e virgola 4, il personale ed ospiti dell'RSA 570 mila, e questi sono i primi che verranno vaccinati. Poi però, e siamo più o meno a 2 milioni di vaccini, poi però gli over 80 sono già 4 milioni e 4, i malati cronici 7,4 e così via. Come sceglierete? Chi sceglierà? Sceglieremo con questo piano vaccini che abbiamo messo su insieme all'Istituto Superiore di Sanità, con l'AIFA, con l'Agenas e che io proprio ieri ho presentato al Parlamento e abbiamo scelto queste categorie. Si partirà chiaramente dai nostri medici, infermieri, da tutto il personale sanitario che è in prima linea e questa è una scelta, io credo, molto importante perché dobbiamo soprattutto lì avere una capacità di resilienza e in più queste persone nei presidi sanitari sono spesso a contatto con i più fragili, quindi è fondamentale che il nostro personale sanitario sia difeso e vaccinato nel più breve tempo possibile. Quindi questa sarà la priorità numero uno. La priorità numero due avrà a che fare proprio con l'RSA, per la ragione di fondo di cui parlavamo prima, perché troppe persone hanno perso la vita e quindi è chiaro che la logica che abbiamo seguito è quella di provare a vaccinare prima chi se rischia di prendere il virus paga il prezzo più alto e purtroppo la storia dell'RSA di questi mesi ci dimostra che in quei luoghi spesso si perde la vita. A seguire, dopo queste due categorie, la questione fondamentale sarà l'età anagrafica ed è chiaro che partiremo dalle persone più anziane che hanno più patologie, che hanno situazioni pregresse difficili. Ed è chiaro che avremo una progressione in cui partiremo chiaramente dai più anziani e andremo a scendere. E andremo a scendere.